Amici del software libero open source, benvenuti o bentornati in questa 180esima puntata del podcast di Marcos Box a commentare con voi come sempre le principali notizie dal mondo del software libero open source della settimana appena trascorsa. Anche questa, come potete vedere se mi seguite già su YouTube, è una puntata video e oltre al mio bel faccino troverete anche una serie di immagini a corredo delle notizie che vado di volta in volta a commentare. Qualora non l'aveste ancora fatto vi invito a iscrivervi numerosi al canale YouTube di Marcos Box mi trovate cercando quello del pacco, trovate anche il link pubblicato sul blog vi invito a iscrivervi numerosi per supportare il canale, per far conoscere il verbo di Linux e del open source e del software libero a tutto il mondo. Poi non trovate soltanto le puntate del podcast sul canale YouTube ma trovate anche una serie di video recensioni e trovate anche recensioni di prodotti hardware, non soltanto di distribuzioni e di software in generale. Quindi seguitemi, seguitemi, perché ho visto che molti di voi che vedono i video non sono ancora iscritti. E apriamo la puntata, questa nuova puntata, che anche questa puntata è divisa come la precedente in due blocchi il primo blocco dedicato alle notizie per quanto riguarda i rilasci di applicativi e quant'altro la seconda parte è dedicata alle distribuzioni Linux. E apriamo la puntata parlando del rilascio di Amarok 3.0 Castaway il team di sviluppo di Amarok ha finalmente annunciato una nuova versione stabile del famoso Player Audio per KDE uno dei Player Audio più amati da tutti quanti gli utenti vecchi a scuola era uno dei Player Audio che, diciamo, lo vedevi praticamente su tutte quante le distribuzioni perché tutti quanti andavano a installarsi Amarok perché era uno dei... era... è ancora, come Player Audio, uno di quelli meglio fatti come interfaccia grafica ed era utilizzato per gestire le nostre immense collezioni musicali dall'epoca che si scaricava tutto come... vabbè, non si siamo capiti. Questa nuova versione stabile di Amarok è basata finalmente su QT5 e KDE Framework 5 ed è il primo rilascio dal 2018 quindi vedete quanti anni che sono passati dalla precedente release ci sono stati alcuni problemi nello sviluppo del software che hanno portato appunto a così tanti anni di distacco tra una versione stabile e l'altra però finalmente appunto abbiamo la nuova versione di Amarok che sta giungendo nei repository delle principali distribuzioni un po' alla spicciolata nei mesi previsti... e nei mesi successivi saranno previsti dei rilasci minori contenenti delle piccole correzioni di bug e piccole aggiunte qua e là e successivamente, entro la fine del 2024, arriverà anche il porting di Amarok alle QT6 e KDE Framework 6 sapete bene che il grosso del lavoro in termini di porting è tra la versione 4 e la versione 5 tra la versione 5 e la versione 6 da quel che stanno dicendo gli sviluppatori l'aggiornamento del framework delle versioni di QT è molto semplice perché quindi si farà in breve tempo l'hanno confermato anche gli sviluppatori di Amarok non vi do l'ora di riprovarlo sulla mia distribuzione e questa settimana c'è stato anche l'annuncio del rilascio della nuova versione di GNU l'editor di testo più amato da tutti quelli che non sanno come funziona come poter uscire da Vim diciamoci, quante persone voi conoscete che sanno utilizzare Vim e che sanno uscire da Vim? io non ne conosco praticamente nessuno tutti quanti utilizzano Nano o altre soluzioni proprio perché Vim è difficilissimo non so quale scintica gli è partita nella testa agli sviluppatori di Vim per mettere quelle scorciatuglie non so come avete fatto comunque questa nuova versione di GNU Nano introduce praticamente delle nuove shortcut moderni per poter salvare per poter fare taglie, copie e incolla quindi le trovate elencate sul blog altre queste ovviamente abbiamo il consueto lavoro di correzioni di bug e nient'altro le solite cosine quelle che sono state aggiunte leggendo l'articolo che trovate sulle pagine del blog troverete tutte quante le novità di questa versione ho messo Mork & Mindy chi di voi si ricorda di Mork & Mindy? l'immagine, alzate la mano quindi tutti quelli che avete alzate la mano siete persone vecchie però siete delle brave persone che vi ricordate i Mork & Mindy e sicuramente avete capito il perché dell'ho messa per mano se non l'avete capito andate a cercare e fatevi una cultura degli anni gli anni loro della televisione rilasciato un altro aggiornamento anche per GIMP che giunge adesso alla versione 2.10.38 è addetta dagli esiluppatori di GIMP e questa è l'ultima versione stabile prima del rilascio di GIMP 3.0 gli esiluppatori ci tengono a farci sapere che stopperanno dopo in poi i porting di funzionalità da GIMP 3.0 nel RAM 2 di GIMP e si dedicheranno esclusivamente allo sviluppo di GIMP 3.0.0 potrebbe essere rilasciata in futuro una minor release di GIMP 2 quindi una 2.10.40 però verrà rilasciata molto più subito dopo il rilascio di GIMP 3.0 e gli esiluppatori hanno deciso di rilasciarla per tutte quelle distribuzioni come Debian, Ubuntu, DTS in modo tale da offrire correzioni di bug nel tempo per queste versioni che di Linux vengono mantenute per più tempo quali sono le novità principali di GIMP 2.10.38? beh, le novità principali riguardano la versione per Windows quindi noi pinguini diciamo così non ce le può fare di meno il primo riguarda il migliorato il supporto per tablet su Windows e poi è stato fatto il backporting di alcune funzionalità da GIMP 3.0 alcuni miglioramenti apportati includono l'aggiornamento della dimensione delle finestre di dialogo di stampa e altre cosine qua e là che anche in questo caso sono miglioramenti che riguardano esclusivamente la versione per Windows scusate, per Windows ci sono poi le solite correzioni di bug qua e là e basta poi vi lascio il link vi lasciate il link nell'articolo dedicato per avere il change log completo ovviamente GIMP 2.10.38 arriverà nelle principali distribuzioni Rolling Release nei prossimi giorni se invece non utilizzando una distribuzione Rolling Release vabbè attaccate perché questa versione probabilmente arriverà con le caliende greche ovviamente se avete installato la versione tramite Flat Pack oppure Snap immagino che a breve fra un'altra settimana dovrebbero essere aggiornate quindi risolvete il problema degli aggiornamenti utilizzato utilizzando Flat Pack e Snap gli utenti Windows possono scaricarlo dal link che è direttamente dall'home page del progetto o anche in dato nelle impostazioni di GIMP e scaricarlo da lì e passiamo adesso a una notizia che riguarda il futuro di Linux perché Leonard Pottering lo sviluppatorio principale di Systemd ha annunciato sul suo profilo Mastodon una novità di Systemd 2.5.6 che stravolgerà forse nel futuro il modo in cui noi utilizziamo la distribuzione di Linux perché Leonard Pottering vuole introdurre un sostituto del comando sudo chiamato run0 questa funzionalità è già inclusa è già esistente da tempo in Systemd Run che si presenta quando viene quando viene invocato con il comando run0 e si comporta questa funzionalità in un modo simile a un cone di sudo qual è la differenza tra sudo e run0 sudo ha un aspetto un po' particolare che viene criticato nel post di Leonard Pottering il comando sudo praticamente che cosa va a fare va a ereditare il contesto nel quale è stato eseguito questo significa che potrebbe avere può avere accesso anche a delle parti del sistema che non non ci interessa avere accesso perché potrebbero essere rappresentare un potenziale rischio per la sicurezza del sistema Systemd cioè il run0 di Systemd invece non va a ereditare non va a ereditare il contesto originale e quindi aumenta diciamo così il livello di sicurezza ed eventuali possibili attacchi ai sistemi Linux come i bug di sicurezza che poi trovate anche linkato nell'articolo dedicato non saranno possibili perché appunto grazie a questo fatto che run0 è diciamo così containerizzato vogliamo chiamarlo così anche se non è il termine il termine corretto voi che cosa ne pensate siete contenti che le vostre distribuzioni stanno diventando sempre più systemd centriche e sempre più pottericentriche magari nel futuro non chiameremo più le distribuzioni GNU Linux ma la chiameremo GNU plus systemd plus pottering plus Linux perché oramai sta decidendo tutto lui è un bene o un male non lo so ditemelo voi e passiamo adesso a un'altra notizia che però non è una notizia è un articolo che ho pubblicato sulle pagine del blog riguardante riguardante un bug che ho trovato con PopOS ma che ho trovato anche con Ubuntu vi avevo detto qualche puntata fa nel precedente non nella precedente puntata di Podcast quella antecedente ancora che a mio avviso questa nuova versione di Ubuntu è la migliore di sempre sotto il profilo di stabilità e bug per un bug non l'ho trovato lo stesso l'ho trovato lo stesso su questa nuova versione di Ubuntu però a onore del vero non è una colpa di Ubuntu ma è una colpa di NVIDIA e sto continuando ad odiare sempre di più NVIDIA mannaggiamo che ho scelto una scheda video NVIDIA per la mia configurazione che cosa succede? succede che questo bug mi si verifica su PopOS mi si verifica su Ubuntu quindi è un bug diciamo così di tutti gli Ubuntu base viene generato un monitor fantasma viene generato un monitor fantasma nelle impostazioni qual è il problema di questo monitor fantasma che quando si genera il monitor fantasma di solito si genera quanto che ne so vi accontinate nel computer entra in stand by e andate a riprescare la sessione quindi andate a rilogarvi nella sessione e vi si presenta e vi appare questo monitor questo monitor fantasma e che cosa succede quando avete una configurazione di un monitor su Linux sembra che i monitor hanno la soluzione di continuità perché preimpostato non c'è messa l'opzione come duplica monitor ma c'è preimpostata l'opzione di extend monitor quindi significa che quando si presenta questo bug voi andate a destra e a sinistra con il mouse e ve ne andate a destra e a sinistra sull'altro monitor è un bug fastidioso quando si presenta perché iniziate a implicare perché le prime volte vi accorgete chi è andato a finire il mouse e poi vi andate a realizzare che è andato tutto a destra o tutto a sinistra a seconda dei casi a volte si butta a destra a volte si butta a sinistra un po' come gli italiani e nell'articolo che ho pubblicato sulle pagine del blog vi spiego come risolvere questo problema in caso di sessione Xorg non funziona su Weyland l'ho provato su Weyland ovviamente perché questa è una modifica andiamo a fare al file Xorg.conf nei prossimi giorni vedrò di trovare una soluzione anche per Weyland anche perché poi succede che se siete come me che vi andate a installare vi andate a installare PopOS con Cosmic il nuovo ambiente desktop vi ritroverete con bug che sulla sessione Pop quella classica non è presente più lo ritrovate poi che vi appare nella sessione nella sessione di Cosmic o del nuovo ambiente desktop perché quella è basata su Weyland attualmente maledetto Weyland maledetta NVIDIA e maledetta a tutte e due vabbè comunque è un bug che spero venga fixato quanto prima a monte anche se dubito fortemente che arriverà arriverà a breve e passiamo adesso alle notizie riguardanti riguardanti la nuova versione la prossima versione di Ubuntu Ubuntu 24.10 è stato annunciato il nome della prossima versione di Ubuntu si chiamerà Okural Oriole spero che abbiate capito che cosa ho detto perché sono tropper in questo nome in codice di Ubuntu l'Oriole è un uccello andatevi a vedere la pagina wikipedia che vi ho linkato ed è stata pubblicata già il piano di riascio della prossima versione semestrale di Ubuntu che verrà rilasciato in forma stabile salvo incidenti dell'ultimo minuto per il prossimo 10 ottobre 2024 il feature freeze è previsto per il 15 d'agosto quindi in piene ferie ci sarà poi il rilascio della versione beta il 19 settembre la final freeze intero ottobre con il rilascio poi della release candidate e infine il rilascio appunto della versione stabile 10 ottobre ovviamente non sappiamo ancora che cosa ci sarà su questa nuova versione di Ubuntu perché è prestissimo per parlarne nelle prossime settimane nei prossimi mesi avremo maggiori dettagli quasi sicuramente andremo a vedere soltanto l'aggiornamento per questa versione semestrale di Kernel troveremo l'aggiornamento di GNOME forse con le ultime versioni però non penso che ci sarà chissà chissà cosa nella prossima versione di Ubuntu perché questa è una release semestrale ridosso di una release LTS quindi scordatevi stravolgimenti fighi se ne parlerà quello per l'anno prossimo e infine passiamo all'ultima notizia di questa puntata del podcast una nuova notizia che riguarda Linux Mint perché Linux Mint ha dichiarato guerra le applicazioni GTK e le applicazioni Flatpak non verificate ogni mese sapete bene a fine mese ogni fine mese c'è un post di Clement Lefebvre il patron di Linux Mint che fa il punto sullo sviluppo di Linux Mint di Cinnamon e di quantato e questo mese ha fatto degli importanti annunci che riguardano il futuro delle X-App delle GTK 4 e delle applicazioni Flatpak non verificate la prima cosa che ha annunciato il Clement Lefebvre riguarda il futuro del progetto X-App che vuole rendere un progetto indipendente da Linux Mint le X-App per chi non le conosce sono praticamente delle applicazioni che sono state sviluppate in seno a Linux Mint e sono pensate per funzionare su Cinnamon su X-Face e su Mate che sono praticamente i tre ambienti desktop che troviamo supportati da Linux Mint attualmente il concetto è realizzare delle applicazioni che si integrino all'interno del sistema quindi niente controlli delle finestre strane tutto uniformato tutto bello come ci piace a noi che si deve integrare alla perfezione ed è un progetto nobilissimo da parte mia perché perché sì perché io odio vedere quel che accade su distribuzioni come X-Ubuntu che è un esempio proprio citato da Clement Lefebvre dove vi ritrovate come potete vedere qua da una parte document scanner con i controlli delle finestre i CDL come si chiama le gestioni delle finestre dei bordi delle finestre tipica di Gnome e dall'altra parte vi trovate applicazioni invece che che non sono pensate per Gnome quindi sono diciamo così classiche e questa cosa cozza perché vi ritrovate un'applicazione che c'è un'interfaccia un'applicazione che c'è un'altra interfaccia oltre a essere graficamente poco curato dal punto di vista visivo crea anche problemi perché magari il tema non viene applicato correttamente da una parte del Bionomodo dall'altra parte del Bionomodo crea confusione negli utenti agriprimari e per questo le X-App vanno diciamo così a colmare questo problema e andare a introdurre all'interno di tutti questi desktop environment che possono essere XFSE mate ma anche Bagi Cinnamon quindi dare delle applicazioni che si integrano con tutti questi desktop environment senza senza cozzare avendo dando al sistema una personalità unica fra l'altro poi un'altra cosa che non mi piace delle ultime versioni di Xubuntu è che oltre ad aver messo applicazioni GNOME quindi con l'interfaccia di TPD di E2E e quant'altro troviamo anche applicazioni come la calcolatrice di mate o altre cose cioè proprio hanno fatto una cozzaglia di applicativi e la stessa cosa l'ho vista anche su come si chiama su Fedora su Fedora Bagi con Bagi Dextro per cui troviamo sempre applicazioni prese da Dextro per veramente a caso no lo so non mi piace a me questa cosa non piace ne manca il team di di Unxmint che ha deciso di di tendere una mano agli sviluppatori di di mate di XFCE di budget quant'altro per rendere Xup un progetto trasversale totalmente indipendente da Linux Mint e quindi hanno deciso di offrirlo al mondo intero con dei propri repository su GitHub un proprio sito web e quant'altro in modo da favorire la collaborazione tra i vari desktop environment per sviluppare queste applicazioni e favorire anche la compatibilità e lo sviluppo di altre applicazioni che funzionino ovunque quindi non soltanto quelle che attualmente ha sviluppato il team di Linux Mint voi che cosa pensate io trovo che questa sia una cosa che andava fatta prima ed è una critica che si fanno anche quelle di Linux Mint loro non sono stati capaci di proporre prima questo cambiamento e di farsi accettare prima dagli altri progetti effettivamente era una cosa che andava fatta anni fa cosa cambierà in Linux Mint 22 dopo questa decisione il team di Linux Mint ha deciso di offrire agli utenti un'esperienza graficamente coerente andando adesso a rimuovere dalla prossima direzione di Mint tutte le applicazioni basate sui GTK4 e Ghibad Waiita che non si adattano ai tre desktop environment supportati da Mint quindi non hanno queste applicazioni non hanno un aspetto nativo e quindi vengono rimosse e fanno bene il primo ad andarsene su Linux Mint per esempio sarà su Linux Mint 22 sarà Gnome Fonts che verrà rimosso e poi ci sarà anche una serie di backporting di applicazioni alle vecchie versioni GTK delle GTK3 quindi troveremo un celluloid che viene rimossa e viene la versione attuale viene ripristinata quella della GTK3 viene la stessa sorte per Gnome Calculator per SimpliScan per Baobabs per System Monitor Gnome Calendar FireGore Zenity e quant'altro quindi Linux Mint ha deciso di diciamo di dichiarare guerra a tutte quante le applicazioni GTK e farà il suo corso con applicazioni XApp con applicazioni che verranno backportate attualmente poi verranno forcate successivamente che di sicuro verranno forcate verranno fatte verranno rese XApp tutte queste applicazioni è un bene ripeto è secondo me la cosa migliore che potessero fare riusciranno però a farla costruttando le loro forze vedremo vedremo perché una cosa del genere comporta un dispendio di energie sotto forma di coding ma anche sotto forma di risorse quindi metti i programmatori non puoi affidarti tutto a programmatori non pagati da sviluppare tutte queste applicazioni perché sarebbe anche una cosa non giusta anche se il team di Linux Mint di solito quando riceve donazioni le ridistribuisce alla community intera l'altro passo decisivo che sta per combi di Linux Mint con la prossima versione della distro riguarda la gestione delle applicazioni presenti su FlatTab sapete bene come funziona su FlatTab noi abbiamo criticato tanto Snap nei mesi precedenti che quando riguarda applicazioni variavoli che venivano caricate però anche FlatPack anche FlatTab il riposo di FlatTab non è esente da problemi recentemente che cosa hanno fatto non so se avete notato hanno iniziato a certificare le applicazioni presenti su FlatTab mettendo un badge per quelle che sono diciamo così provengono dai legittimi da legittimi sviluppatori o magari anche da qualche collaboratore insomma per avere un minimo di tracciabilità delle applicazioni per dare un minimo di sicurezza e offrire agli utenti applicazioni presenti da FlatTab che non sono ufficialmente verificate è un problema che si sta ponendo anche il team di InxMint diciamo perché loro offrono la possibilità di installare applicazioni FlatPack presenti da FlatTab direttamente dal loro store attualmente soltanto il 25% dell'applicazione di FlatPack è stato verificato da FlatTab quindi un numero diciamo molto 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 risicato quindi al fine di aumentare la sicurezza completa della distribuzione aumentare il grado di sicurezza degli utenti che cosa ha deciso il team di InxMint ha deciso che il software manager verrà aggiornato in modo da non mostrare i FlatPack non verificati per impostazioni predefinita dovremmo andare noi a spuntare un'opzione per poter visualizzare i pacchetti FlatPack non verificati quando poi vengono mostrate le applicazioni non verificate avranno un punteggio di zero il punteggio diciamo così va a aiutare gli utenti a creare una fiducia nelle applicazioni insomma fa capire vedi che questa non è verificata io ti metto zero se fin quando non me la recensissi non ci capiamo se è veramente affidabile io ti avviso ti metto questo disclaimer e poi quando vengono mostrate le applicazioni non verificate saranno chiaramente contrassegnate come non verificate quindi una serie di modifiche agro store per far capire agli utenti oh il mondo FlatPack è bellissimo però occhio che potrebbe nascere il problema da un momento all'altro anche questa cosa anche questa decisione la trovo una decisione sensata a mio avviso sarebbe dovuta maturare prima anche insieme ad altre distribuzioni perché oramai consigliamo tutti quanti applicazioni presenti da 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 lo snap store però non ci facciamo mai la domanda sono sufficientemente verificate sicure quant'altro noi ci basiamo sempre sulla buona fiducia dei pinguini perché per noi il mondo è tutto quanto fatto da unicorni che far fare fate e quant'altro nessuno ci vuole del male però in realtà il mondo caso là fuori è pericolosissimo come abbiamo avuto modo di vedere con le ultime file di sicurezza in xz perché mi avevo detto xy perché stavo ripensando che fa poco da vedere la puntata di city hunter xyz non l'avete mai visto city hunter scusate vabbè dicevo il mondo là fuori è pericolosissimo abbiamo visto che la file in xz abbiamo fatto tutte quelle applicazioni presenti sullo snap store che contenevano malware e quindi ora ciò quando andate ad installare da fonti di terze parti perché potrebbe nascere l'insidia e vabbè gg per il team di linux mint beh con questa ultima notizia si conclude qui questa 180esima puntata di podcast di marcos box io come sempre vi invito a seguirmi sui social mi trovate su facebook su x su youtube mi trovate sulle principali piattaforme di podcasting mi trovate con mio profilo personale su grinkedin mi trovate su mastodon e mi trovate soprattutto su telegram dove c'è il canale dedicato alle notizie di marcos box che potete utilizzare a modo di feed reader la community telegram nella quale potete discutere di tutto non soltanto di linux e il canale dedicato alle offerte telegram di amazon presenti su amazon quindi con i link referral da amazon che potete utilizzare per supportare il blog trovate anche il tux sulle pagine del blog ci cliccate da sopra e vi rimanda vi genera direttamente il referral marcos box trattino 21 che è il referral di marcos box infine vi ricordo che potete supportare anche il blog acquistando o rinnovando nordvpn trovate sulle pagine del blog il link affigliazione anche vi metto qua sotto se ho in calcio al video anche il link affigliazione di nordvpn con l'offerta del momento lunga vita e prosperità a tutti quanti ci riaggiorniamo la prossima settimana con la prossima puntata del podcast di marcos box ciao ciao